mamma mia dombele mamma mia dombele mamma mia dombele ragazzi buonasera buonasera benvenuti in questo mio nuovo video post partita chiamiamolo chiamiamolo resoconto della del presera no dell'amichevole tra napoli juve stabbia napoli che ha vinto 3 a 0 non in maniera facile però diciamo che era un test normale era un amichevole tanto per testare i nuovi tanto per vedere i nuovi per salutarli e anche per diciamo mettere benzina sul fuoco già iniziavano i primi giudizi su twitter anche in chat mia in live ma chi sei scarsa ma così ma con la stiamo parigianne che ha juve stabbia per vergogno dobbiamo andare in serie b non lo so se era ironia era sarcasmo che per ragazzi come ho detto per gli amichevoli di estate dell'estate gli amichevoli non servono a un cazzo non servono a niente posso dare le prime minuscole indicazioni ma non servono a un beo amato cazzo però però alcune notizie le possiamo dire notizie diciamo giudizi personali per essere la prima volta che li abbiamo visti ok quindi fatemi sapere il vostro pensiero su cosa avete visto su come li avete visti però io voglio aprire una piccola parentesi io continuo a essere un'anti dell'aurentis ok al di là del calciomercato bello che ha fatto e che finiremo col botto perché voglio per me segnatevi stora stadate tutto keylor navas bene a napola per me perché i segnali sono quelli per me viene poi non viene a o mi becco le clip delle figure di merda delle prese in giro sti cazzi però per me viene e io continuerò a essere anti dell'aurentis perfetto che io il mio paragone è stato come dire tu perdoneresti mai la tua ragazza che ti ha fatto le corna e per farsi perdonare ti scopa per tutta la notte e lei ti dice mi perdoni cioè il paragone penso che è uguale io non mi dimentico quello che davanti si ha fatto nel passato ok però gli do atto che ha fatto un ottimo mercato congiuntoli che ha fatto un ottimo diciamo ha fatto il suo lavoro in maniera molto intelligente e a parte questo voglio complimentarmi per come hanno gestito la cosa al di là del segnale che io ho visto la partita su facebook andava veniva si bloccava ok però hanno fatto ingresso gratuito partita che si vedeva gratuitamente quindi farci i miei più i miei cazzo mi stiamo imbabbigliando i miei più sinceri complimenti perché solo così possono riavvicinare i tifosi ma non solo così un tifoso lo è per sempre i tifosi occasionali io per me i tifosi occasionali sono quei tifosi che per una sconfitta dicono no il napoli non lo guardo più poi la giornata dopo il napoli vince mamma il grande no quindi questi sono occasionali manco quelli là che vanno a vedere le partite contro le top per me non sono occasionali cioè ci sono ci sono occasionali ma ci sono anche tifosi che preferiscono giustamente che sono in altra parte del mondo dell'italia vanno a napoli per vedere appunto quella partita ma chiudiamo sto discorso napoli giove stabbia niente da dire dal livello tattico tecnico c'è da dire che napoli ha giocato 4 2 3 1 con raspadori dietro dietro simeone mi voglio focalizzare molto sui nuovi soprattutto sui nuovi e quindi sirigu partiamo da sirigu dal portiere per me è un ottimo vice meret e ha fatto due interventi buoni che per me merita un sette in pacello zannori ha fatto una bella partita ostica da pure attento insieme a guai jesus per me guai jesus stasera in questa amichevole è stato come un vice allenatore in campo secondo me spalletti li avrà detto senti tieni d'occhio ostigard olivera e mass dombele aiutali comunica con loro diciamo che olivera nel primo tempo l'ho visto un po insomma una prestazione alta allenante difensivamente ha rischiato tanto ha spinto bene è un tre o io un treno olivera un treno poi nel secondo tempo l'ho visto più sicuro difensivamente un po meno fisicamente e un po meno diciamo in fase offensiva però diciamo che olivera per me meriterebbe anche un 6 e mezzo devo essere sincero e io ho dovuti solo i nuovi per carità di dio dombele 8 dombele 8 qualcuno dice è lo scarto è uno scarso è fuori forma e ma se era forte il tot e una mamma mica ve lo regalava ecco si eccolo aiuto dombele ha tirato una siggiata ha tirato una nasa itella ha tirato vi ricordate mark landers che bucava la rete uno degli episodi identico mancava solo il buco alla rete a mo fatta un blame è un giocatore è ok una amichevole che non vale un cazzo però per come l'ha interpretata per me l'ha interpretata bene quindi è un bell'acquisto chi sarebbe titolare tra chi sa dombele non lo so io so solo che spalletti all'imbarazzo della scelta all'inforza dombele osa più ad andare in fase offensiva osa più il tiro mentre chi sa più sulla fase di contenimento e nel lottare a centrocampo però dombele forse ne migliorano un po' nei passaggi ma un 8 se lo merita tutto e un ass guaiu io sono diventato ufficialmente un anti un ass guaiu ogni volta che lo vedo divento canno ill egoista perché guaiu allora le qualità le ha le qualità le tiene le tiene pure a velocità a piede è un piede caldo e tutto tutto a tutto l'unica cosa che non ha e che purtroppo un grande giocatore dovrebbe avere è l'altruismo cioè c'è stata un'occasione in cui hai fatto la percursione bellissima che si è entrata in aria e poi hai tirato hai perso il tempo hai tirato proprio sotto porta tu la dovevi passare hai fatto due passi in avanti passala passala meno male che su un ass ci sta la Sampdoria perché guaiu va ceduto va ceduto punto mi dispiace ma va ceduto non è un giocatore da Napoli ha fatto una bella partita ma non è un giocatore da Napoli per me Raspadori qualcuno in chat è mai scarsa è mai sopravvalutato è mai così è mai con la allora Raspadori è a Napoli da medio di una settimana circa ok bene a pochi allenamenti alle gambe Raspadori si trovava in mezzo tra Simeone nuovo acquisto politano semi titolare che non ha giocato manco al 100% e per me è uno dei peggiori in campo ma sti cazzi a sinistra teneva chi teneva un ass ah si un ass a sinistra che diciamo è sul piede di partenza poi dietro aveva il Don Belè e sempre dietro aveva il mass che è per me inutile il mass in quella posizione ma vabbè sono opinioni che diciamo fuori ruolo quindi stava al centro titolare in una squadra che non giocava al 100% non voleva forzare la mano era all'inizio che però nonostante tutto questo contorno diciamo così ha giocato bene per me merita un 6 e mezzo per me Raspadori merita un 6 e mezzo sono esagerato forse 6 meno ma su 6 più o meno ci sta perché le occasioni più interessanti le ha create lui ha sbagliato troppi passaggi e fin qua bisogna dirlo bisogna dirlo però io l'ho visto sempre sul pezzo forse un po timido forse un po indeciso forse un po così forse un po come dire si trovava la prima volta al san paolo forse poca personalità gli è mancata la personalità non lo so però per me per essere la prima ufficiale chiamiamola ufficiale non è che ha giocato malissimo che ha giocato malissimo dopo politano è stato simeone però simeone diciamo che ha l'attenuante che lo hanno servito poco e male per me simeone è da 5 5 e mezzo massimo quello di simeone io ho apprezzato l'aggressività in cui ci ha creduto in ogni pallone ok poi ha segnato anche zerbin un bel gol bisogna dire ha fatto un bel gol e poi ambrosino ma io sto giocatore sto giovane va coltivato quindi un applauso alla ssc napoli non lo buttate non lo inguaiate non lo inguaiate deve giocare deve giocare lo devono mandare in prestito in serie b fare un contratto e mettere una clausola deve giocare almeno il più del 50 per partita da jugo a sembra perché a qualità fatto un gol che all'apparenza può essere facile però ci vuole freddezza la ci vuole freddezza e per me ma io è un giocatore che vale poi qualcuno diciamo ha criticato un po storto in naso voglio è un amichevole giocatori che non volevano farsi male giocatori che non prendeva nel piede su acceleratore giocatori che pensavano a domenica perché domenica c'è non è un partito importante ok quindi guardiamo anche questo del perché non hanno giocato anche una bellissima partita e quindi aiuto questa squadra se facciamo la ciliegia navas per me ci divertiamo bene non siamo da scudetto lo dico oggi non siamo per me non siamo da scudetto però siamo una squadra in cui deve crescere va lasciato il tempo il giusto tempo e quindi niente fatemi sapere la vostra insomma da tutti noi ci vediamo domani mattina con l'urna di pepon speriamo di registrarla in tempo e di editarla in tempo perché io domani alle 10 poi devo scappare e poi domani pomeriggio verso le 5 e mezza forse prima non lo so vado in live per i sorteggi champions e sono sicuro che becchiamo di ramadrid psg vabbè ciao io forse l'amore sempre